allora sto aspettando una raccomandata ok solo che è un po che siccome mi hanno poi mandato guardi che le mandiamo questa raccomandata però poi mi hanno richiesto altri documenti e così via allora poi non mi hanno risposto si li abbiamo ricevuti allora è un po di giorni che sto aspettando non è ancora arrivata allora chiamo il call center e chiedo dove è allora mi è andato il numero hanno spedito con la posta normale e cioè con posta italia e non con dhl o altro allora devo andare a cercarla su sulle poste e mi ha dato il numero il codice ok allora io cosa ho fatto digitato la prima volta cerca spedizioni poste ok digitato con google e alla fine vado giù ok vado giù e vado giù e faccio devo andare giù ancora e qua ok post e delivery express spedizione tracking ok dunque spedizione e tracking dunque questo ok e vado a cliccare su questo poste delivery express spedizione e tra che in poste italiane italiane clicco ok dunque importante questo poste punto it e slash prodotti slash poste trattino delivery trattino express punto html vado giù e qua cerca spedizioni non l'ho spedita io me l'hanno spedita ok mi hanno stato mandato il numero di tracking tracking di tracciamento cerca spedizioni clicco qui ok vado qua e metto il numero che mi è andato dunque metto perché è per sapere se magari l'ha messo sbagliati l'ha messo da un'altra parte e dunque io non ho il foglio di ricevimento clicco ho scritto sono tre tre sei tre nove dodici numeri faccio il search ok c'è ok è presa in carico in transito è in transito dunque devo aspettare non l'ha consegnata faccio dettagli spedizioni clicco qui dunque partita da napoli è andata in sardegna e adesso oggi dalla sardegna quattuccio elmas è andata a verona e da verona arriverà qui quando non lo so probabilmente domani forse domani va beh era tra questo video per ricordarmi come fare perché sinceramente non ho dovuto lavorare un po per andare a trovare sto link e niente ok ci vediamo la prossima arrivederci